salve grazie grazie a chi ha organizzato tutto questo da quando ho ricevuto la prima mail da parte della dottoressa fino a adesso mi sono chiesto perché avete invitato me io faccio lo psichiatra è strano che un'assemblea di imprenditori industriali chiamino me però poi mi sono ricordato perché un po di esperienza ce l'ho di forse vent'anni fa o qualcosa di più stessa associazione stavolta a treviso confindustria veneto e anche lì non capivo forse capivo ancora meno perché chiamassero me poi me l'hanno detto però è un dato allora che noi temiamo il 30 per cento delle aziende in passaggio generazionale muore ho detto va una cifra forte grande e allora ho capito che il problema non era la globalizzazione che all'epoca era poi si sarebbe detto la rivoluzione digitale tante cose che per carità sono formidabili ma non sono come direste voi il core business core business è questa cosa qua si chiama famiglia ovvero educazione a meno che voi non pensiate che la famiglia sia un spa ma se la famiglia un spa avete già perso quindi conviene quell'altra cosa che sia un luogo di educazione di elevazione come direbbero i francesi stiamo facendo questo chiediamocelo maniera schietta qua gente schietta amate affrontare i problemi per quello che sono non avete chiamato un edulcatore bene ieri si sono presentati alla maturità il 96 per cento dei candidati di questo 96 per cento il 99 per cento verrà promosso ovvero la scuola è fallita mi dispiace ma è così è fallita perché è morta la meritocrazia o voi pensate che il 99 per cento dei ragazzi delle ragazze siano dei campioni del mondo ma perché io mi sono chiesto io tante volte ho detto vorrei incontrare l'uno per cento un ragazzo una ragazza chiede ma come hai fatto a farti bocciare in questo paese no perché dice non ho studiato ma neanche il 99 per cento non ha studiato nessuno adesso tre righe è complicato l'università di milano non sono non sono qui a farlo spiritoso sono qui a darvi cose drammatiche col sorriso università di milano il preside qui abbiamo il preside del politecnico spero che non sia così anche per lui consiglia ai professori di non dare testi di studio superiori ai 400 pagine io sono un medico ho fatto clinica medica 6.600 come ho fatto un colpo non ce n'erano tre uno era un genio no era il primo della classe no uno semplicemente allenato come un maratoneta maratoneta fa i suoi chilometri se li faccio io muoio al secondo chilometro ma uno bravo anche 80 anni come dimostra new york si arriva in fonda se sei allenato e se non fa niente c'è uno strano contorcimento mi piace sta roba qua allora l'economia si è capovolta un tempo erano i giovani che con il loro lavoro mantenevano i meno giovani e i vecchi adesso è il vecchio che deve mantenere il nipote ma siamo sicuri che questa sia la strada giusta che i nostri ragazzi dipendono dalla pensione del nonno o da quello che ha messo via il nonno siamo sicuri non facciamo più più davanti non ci interessa più non ci interessa più innovare fare prodotto ma raschiare il barile si fa presto sapete non ci vogliono molto generazioni per raschiare ciò che è stato fatto voi qui lo sapete a memoria qui negli anni 50 c'era la fame e lo sapete benissimo perché è scritto in grandi romanzi ce la siamo scordata alla stessa mia età quella fame e come vedete sono qua è così come si arriva a questo si può anche tornare indietro cosa dite o abbiamo lo stellone che ci sa salva sempre 30 per cento dei ragazzi e ragazze con meno di 30 anni che non studiano e non lavorano anche lì apriamo una bella bottiglia di champagne siamo contenti così ma questi hanno l'idrovora sotto i vostri conti fate attenzione una scuola deve essere meritocratica ma lo è se dietro c'è una famiglia meritocratica ma se c'è una famiglia che va all'assalto della professoressa che ha dato 4 a quel genio di mia figlia incompreso e quindi andiamo a fare i sindacalisti lei dice 4 secondo me 8 facciamo 6 andiamo tutti a casa contenti questa mediocrità qua non ve la meritate cerchiamo di capire prima che sia tardi ma voi davvero pensate che in questo momento in un liceo cinese o indiano non tocco la guerra non interessa stanno promuovendo il 99 per cento degli studenti siete sicuri io io in india ci ho lavorato l'università di chandegar funzionava come un gioiello l'ho capito dopo bravi questi bravi cinque minuti di ritardo eri fuori arrivavi cinque minuti prima non so con quale miracolo io ho imparato arrivare giusto e il professore prima di me perché avrebbe perso il posto così come è successo ad harvard col mio professore che non ha mai perso il posto perché arrivava dieci minuti prima e si prendeva un caffè complicato non siamo all'altezza ma come voi avete fatto una cosa strepitosa o no non avete il vino migliore del mondo ma chi l'ha fatto uno con dieci spritz sopra no ditemi se il signor gaia ogni volta che andava a le vie prima si prendeva dieci spritz forse di vigne ne vedeva doppie o no no perché ridete perché io li ho visti ieri sera qui a bere 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 l'altro giorno col prefetto abbiamo visto un docufilm su roma notturna alla domanda a che bicchiere sei dieci dieci e non ci avevano cinquant'anni tant'è vero che erano mascherati 16 15 va bene così e se uno va in coma attilico va bene così e questo secondo voi cos'è valore aggiunto siamo sicuri su di questo valore aggiunto io non lo credo non lo credo perché perché non l'abbiamo mai fatto sto finendo mi manca 30 secondi io sono qua perché penso che un intellettuale debba essere scomodo non sono qua per per pettinare per il verso del pelo io ho detto quello che è la mia esperienza di 40 anni siete liberi di non crederci siete liberi di pensare che sia pessimista menagramo dite tutto quello che vi pare ma ho ragione io mi dispiace e voi me lo dimostrate i vostri figli me lo dimostrano quando ricevo le vostre mail quando i nei reparti neuro psichiatria sono pieni abbiamo ragione chi vede questo e chi si nasconde dietro un dito si assume la responsabilità oggi grazie